Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia, sabato 1 luglio da Bilbao scatterà l'edizione numero 110 del Tour de France Oggi vedremo il percorso e spenderemo due parole sui due principali favoriti di questa grandissima corsa Iniziamo la puntata Però Giorgione si comincia subito con una tappa mica da ridere Cioè la Bilbao di 182 km tappa da 3 stelle su 5 Con diversi campioni della montagna, percorso molto tortuoso, tanto percorso vicino al mare quindi come possibilità di vento E arrivo in leggera salita a 500 metri di strappo finale Cioè è come una tappa bastardina dei Paesi Baschi Non so se avete idea di cosa sono i Paesi Baschi Quindi diciamo che la prima maglia gialla non la prenderà un velocista o un cronomen come avviene di solito nei grandi giri Ma probabilmente già un puncher, un attaccante, uno che è sprint o addirittura già anche uno da classifica generale Già un po' gaccia se sta bene, oddio adesso vediamo come starà però O un Van Der Pooh, un Van Der Pooh Cioè poi anche perché il giorno dopo c'è, prima c'è la tappa dei Paesi Baschi Il secondo giorno c'è il San Sebastian C'è lo Jezky-Bel C'è praticamente la classica dei San Sebastian, un po' alleggerita Cioè ragazzi, Vittoria-Gastei-San Sebastian, 209 km Tra l'altro la tappa più lunga di tutto il Tour de France Perché le tappe saranno quasi tutte sotto i 200 km Solo due sopra i 200 km Qui Jezky-Bel, la finale è la seconda categoria Poi la lunedì 3 luglio, terza frazione Che si conclude a Bayon di 185 km Volata Un po' più leggera, comunque due stelle insomma Sì, ci sono delle salite all'inizio però difficile che le possa arrivare O meglio, può ritrebbe arrivare la fuga Però diciamo la prima occasione per i velocisti difficile che sarà la Passiamo alla quarta tappa che è per i velocisti Andiamo a mercoledì 5 luglio, quinta Pau-Lorraine Insomma con già salite importanti come il Col-Marie Blanc sul finale Poi l'ultimo GPM ha 9 km al 7,6% di pendenza media Sì, qui c'è la prima salita hors category di questo Tour de France Siamo a 4 stelle su 5 Sì, quindi già una tappa bella impegnativa Mamma mia Come il giorno dopo, ancora Pirenei, Aspen, Tourmalet Due salite storiche prima dell'arrivo in salita Sono 16 km al 5,3% Quindi tappa veramente tosta per essere la prima settimana Una settimana bella calda Che miseria Vabbè, saltiamo la settima e l'ottava tappa Che sono per i velocisti E andiamo alla nona, Giorgione Una tappa abbastanza semplice durante il suo percorso di 184 km Ma con un arrivo in salita bello tosto Quasi 14 km a 7,7% di pendenza media sul Puy de Dom Una tappa unipuerto Salita secca alla fine Unipuerto, tappa dura Quindi arrivano là belli freschi sotto l'ultimo per scannarsi Dovrebbe diventare anche spettacolare Poi tappa 10 Che all'arrivo è in pianura Però ci sono 4 colle di terza categoria Un colle di seconda Quindi molto probabilmente arriverà la fuga Sì, la mettono a due stelle ma insomma Sì, però è da fuga Tappa 11 invece molto probabilmente da volata Tappa 12 fuga quasi sicuramente Niente di che, ma andiamo a venerdì 14 luglio La tredicesima, Giorgione Che si conclude la Gran Colombier Quella si fa sul serio È 17,8 km al 7% di pendenza media l'ultima salita Anche questo è quasi un unipuerto Tappa di 140 km Con sì, un falso piano a salire Negli ultimi chilometri prima di scendere nel fondo valle E fare l'ultima salita veramente tosto Non scategori Poi il giorno dopo Altra tappa durissima Durissima con arrivo a Morzin Che prevede 4.000 metri di dislivello totali Con il Col de la Ramaz Il Col de Jouplain Sono 12 km all'8,5% di pendenza media E poi è picchiata verso l'arrivo Questa è dura perché ci sono tre colle di prima categoria O non scategori in un'unica tappa Questo è proprio il classico tappone alpino, duro, pesante Mamma mia 16 luglio, giorno del mio compleanno Vediamo che vincerà Tappa che arriva a Gervais Montblanc Di 180 km Altra tappa da 4.000 metri di dislivello Con il finale Con la Saint-Gervais Montblanc 7 km al 7.8 Dipendenza media Poi giorno di riposo Si riparte dopo il giorno di riposo Con una bella cronometro Di 22 km Con arrivo in salita Per gambe ingolfate Proprio una cosa dolorosissima Ma sai chi punta farà tre ore il giorno di riposo? Si, si Perché qua Minimo tre ore di bici Prima di questa crono Pieghi dei minuti Cioè è pazzesco Perché giorno di riposo Devi stare super attivo E non spegnere il motore Perché sennò Non dico i minuti Perché la crona è corta Però uno che si gioca la classifica Rischia di perdere un minutello Magari può riprendere il giorno dopo Per darne altre Perché la Saint-Gervais Montblanc Courchevel 166 km 5.000 metri di dislivello Il finale è Col de L'Ose Fino ad arrivare a 2.264 metri dal 3 Questa è una bella tappona Poi altre due tappe Adatte alle ruote veloci Forse la diciannovesima Che si chiude a Poligny Adatta forse più alle fughe Bisogna vedere quante energie Sono rimaste in gruppo Ma andiamo al 22 luglio Altra tappa Brevissima 133 km Da Belfort Le Marc Steine Ma 6 GPM Da affrontare Giorgione Come la mettiamo qua? E qua si deciderà Il Tour de France Si decide in una tappa Mossa Senza una salita finale Devastante Ma comunque è dura In prima categoria Le energie rimaste Decideranno Chi sarà il vincitore Del Tour de France Anche perché manca Solo una tappa E che è quella Degli Champs-Élysées Quindi il Tour finisce qui Allora Un Tour Che si avvicina un po' Alla nostra idea Di fare un grande giro Un pochino più leggero A livello di chilometri Un pochino più corto Con tante tappe facili In mezzo Però 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 Pochissima crono Giorgione Sono 21 km a cronometro Tratto in salita Uno dei Tour Con meno chilometri In assoluto Nella storia Nella storia Di questa corsa Se non Quello con meno cronometro Proprio Di prima settimana dura Mi piace L'idea che ci siano Due Tre giorni di fila Facili Per far riposare i corridori Mi piace Per poi fare tappe più dure Ci fosse stata Un po' più di crono Secondo me sarebbe stato Veramente un percorso Però non male questa cosa Del pronti via Con i corridori Che sono belli freschi Fagli fare delle tappe Nervose Spettacolari A livello di percorso Può essere anche Utile a livello di sicurezza Perché mette già Ogni corridore A suo posto Mette già uno per cantone Non c'è Quell'instabilità Da prima settimana In cui tutti vogliono Provare a fare classifica Tutti vogliono provare A entrare O tutti hanno paura Di prendere gap E quindi si crea Tanto stress Le prime due tappe Solo per velocisti Completamente piatte Fanno tanti danni A livello di cadute Qui magari già Ne mette uno per cantone Potrebbe essere Un po' meno dannoso A livello di cadute Sono d'accordo con te Giorgione Ma andiamo a vedere Un po' gli uomini Favoriti Che ovviamente Abbiamo i punti di riferimento Che sono Pogacar E Bingegaard Se non succede Di niente La sfida Sarà tra loro due C'è un po' l'incognita Pogacar Perché Non corre Dalla Liegi Dove è caduto Tra l'altro Poi a metà corsa Quindi è stato Tanti mesi Senza gareggiare Un po' Il ciclismo è cambiato Sappiamo benissimo Che si può arrivare Alle corse al top Senza gare nelle gambe Però è tanto Non ha fatto Il classico giro di Slovenia Come avvicinamento Che faceva negli anni passati Più di tre mesi Però vedendo come è andato A campionato crono Va bene Non aveva rivali Però è andato con 5 minuti di vantaggio Direi che Dove star bene Sì Stiamo registrando questa puntata Ha già fatto il campionato Con largo anticipo Ha già corso il campionato Su strada Ma non sappiamo cosa ha fatto Ha fatto crono e strada Tre mesi prima di queste due gare Poi adesso c'è il tour Diciamo che qualche Una scarburatina L'ha già fatta Come dici tu Si è andato a 5 minuti al secondo Malissimo non sta Non è sotto un treno Sicuramente Comunque Saranno loro due A contenderci la vittoria Salvo I previsti Salvo Episodi particolari Dicare una squadra Molto forte Alle sue spalle Assolutamente Ma anche Pogge Sono i due corridori più forti Le due squadre più forti Per un grande giro Quindi sarà veramente Una battaglia frontale Fra questi due team E questi due corridori Vediamo come si inseriscono Poi gli altri Sicuramente Schelmose Sono curioso di vederlo Dopo aver vinto il giro di Svizzera È una corsa che non ho Non ho avuto tempo di seguire Per vari motivi Quindi sono curioso di vederlo A turno In azione Adam Iese Che sarà In supporto di Pogaccia Però Può essere sempre Una pedina importante Da avere in più Come l'anno scorso Roglic Nel supporto di Ving È stata una pedina fondamentale Per distruggere La corsa di Poggi Potrebbe succedere Contrera quest'anno Con Iese Michel Landa Che aveva sempre nominato Un regolarista Pino Vodou Bardet Mas e Indely Potrebbero fare Un salto in avanti Nella carriera Mas sta crescendo Pian piano Anno dopo anno Indely Non ha fatto il giro Da vincente Per puntare sul tour Però oggettivamente Giorgione Gli altri sono due spanne Sotto i primi due Beh Ma i primi due Si sa Sono lì No no Però dico Non è che sono lì Poco sotto C'è tanto gap Certo Però sicuramente Non è giusto nominare No no Sicuramente rendranno La corsa più bella Come rendranno La corsa più spettacolare Anche Van Der Poel E Van Aert Caro Giorgione Perché io Mi aspetto di vedere La scannarsi un pochino In quelle tappette nervose A meno che Van Aert Non abbia obblighi di squadra Deveva stare lì A fare la chioccia Li avrà sicuramente Però scaccia E appunto scappia Quando ha la gamba calda E vede che scatta Van Der Poel Vuoi che non parta anche lui Eh Il punto è questo Van Der Poel Quest'anno è in forma Rispetto a uno scorso Che è arrivato finito Dopo il giro d'Italia Quest'anno arriva Con il gambone pieno Van Aert Mi sembra che stia molto bene Anche lui Ha vinto i campionati nazionali A crono Quindi vuol dire Che c'è la gamba C'era bello Vederli sicuramente C'è anche la Philippe Per le tappe Che potrebbe Fare bene Come italiani Abbiamo Ciccone Che spero Non faccia classifica Spero che punti A fare tappe Non si metta La classifica Non si metta In destra Né in testa C'è Bettiol Che ha fatto il giro In preparazione Per il tour Punterà a vincere Una tappa almeno Nizzolo Che punterà anche lui Ovviamente A vincere una tappa In volata Sobrero E Baggioli Baggioli Vediamo se avrà Un po' più di chance Di cercarsi qualcosa Dovrebbero correre Da cani sciolti Comunque abbastanza Beh loro puntano Le tappe Si sa Certo Baggio Bisogna vedere Se lo tengono Come supporto Per Mario Se non ha letto In salita Oppure può avere Un po' più di libertà Per le fughe Che punto le tappe C'è anche un certo Mark Cavendish Gli basta Una vittoria Per essere Il corridore In solitaria Con più successi Di tappa Al Tour de France A oggi è A 34 successi Al pari di Eddie Merckx Si vuole diventare L'unico Da solo Esatto Senza nessuno E già Il corridore Con più vittorie A pari merito Vuole essere da solo Giusto così Bisogna essere ambiziosi Una volatina Una volatina Mark Io faccio il tifo Per lui E pensa se questa volatina È l'ultima Su Campi Elisi Ho la pelle d'olta Già Giorgione Va bene Comunque Questa era un po' La sintesi La sintesi La sintesi Super sintesi La preview Esatto Vi ricordo che è tutto visibile Su GCN Plus Tra l'altro Su GCN Plus Quando aprite la scheda Della tappa Anche qualche giorno prima Che inizi la tappa stessa Sotto c'è tutta una spiegazione Del percorso Fatta molto bene In modo dettagliato Anche una bella descrizione Quindi se volete sapere Qualcosa di più In modo più approfondito Oltre a questo video Potete andare veramente Su GCN Plus A controllare le tappe Scrivete nei commenti Chi sarà per voi La sorpresa Di questo Tour de France Non diciamo Chi vincerà Perché sono in due Però alla fine Chi sarà la sorpresa Di questo Tour de France 2023 Scrivete nei commenti Mettete un bel like Iscrivete al canale Per non perdere I prossimi contenuti Alla prossima puntata Ciao